Ben trovati. La piazza di Montecitorio ospita quasi ogni giorno iniziative di mobilitazione. Io lo ritengo un segno importante perché anche quando i cittadini lo fanno per protestare, sono molto arrabbiati e lo fanno per attirare l'attenzione sulle loro richieste, esprimono comunque fiducia nelle istituzioni. E se posso cerco di esserci, cerco di stare con loro come è capitato anche per la manifestazione dell'AMPAS, cioè i volontari delle pubbliche assistenze. Credo che sia mio dovere non solo presiedere l'Aula, ma anche essere in piazza, essere in piazza per recepire le istanze dei cittadini e poi riportarle all'interno dell'istituzione. Questa settimana un altro incontro per me molto significativo, sempre sulla piazza di Montecitorio, è stato quello in occasione della giornata mondiale sull'autismo, una malattia più diffusa di quanto si creda. Le statistiche internazionali dicono che riguardi una persona su 88 e che spesso le famiglie vivono questa malattia nell'isolamento. Ecco, l'altra sera madri e padri accompagnando i loro figli sono venuti in piazza a parlare dei problemi che vivono, talvolta problemi molto pesanti, anche perché manca un adeguato sostegno. E allora hanno chiesto che arrivi presto una legge rivolta ai loro figli, alle loro famiglie. Noi abbiamo aderito ad una campagna internazionale e abbiamo illuminato di blu la facciata della Camera per dire con un gesto simbolico che ora si deve accendere su una questione così delicata anche l'adeguata attenzione del Parlamento. In aula sono stati approvati tre importanti provvedimenti. Il primo è quello sulla cosiddetta messa alla prova. Il testo prevede tra l'altro una delega al governo per superare il reato di immigrazione clandestina. Su questo punto si volta finalmente pagina, si volta pagina rispetto al pensiero dominante degli ultimi anni che troppo spesso ha criminalizzato i migranti. Io lo considero un segno di maturità del Parlamento l'essere intervenuto per archiviare una normativa che peraltro non è servita, i numeri lo dimostrano a ridurre gli arrivi irregolari, ma ha solo appesantito il lavoro dei magistrati sovraccaricandoli inutilmente di fascicoli. Il testo sulla messa alla prova indica una serie di disposizioni per incentivare le misure alternative al carcere, con l'obiettivo di far fronte ad una gravissima condizione di sovraffollamento. Il secondo provvedimento è quello che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso. Come forse sapete, come ricorderete, nasce in risposta alle richieste della campagna Riparte il futuro, una campagna promossa da Libera e da Gruppo Abele e sottoscritta da oltre 400 mila cittadini. Io non dimentico di essere entrata in questa Camera portando al polso, come tanti altri deputati, il braccialetto bianco, simbolo dell'impegno a fare presto una buona legge su questo tema. Il terzo provvedimento è quello che prevede la ridefinizione del sistema delle province e l'istituzione delle città metropolitane. In attesa della riforma costituzionale gli organi delle province saranno eletti tra i sindaci e anche tra i consiglieri dei comuni del territorio e gli incarichi saranno a titolo gratuito. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, ci rivediamo tra una settimana.